Stop al caro vita e al caro bollette. Con questo slogan rappresentanti territoriali di CGL Cisle Will si sono ritrovati in presidio davanti la prefettura di Chieti per denunciare le crescenti e quotidiane difficoltà di lavoratori, famiglie e pensionati. Le criticità evidenziate sono contenute in un documento riassunto dalle voci dei rappresentanti sindacali Franco Spina, Beniamino Primavera e Antonio Cardo. Passare la tassazione sulle pensioni e il mondo del lavoro e delle buste paghe, dopodiché il recupero dell'inflazione. Quella programmata già è stata ampiamente superata, oggi siamo al 12%, i dati dell'Istat 11,8%, poi ci sono i prezzi, i prezzi del carrello della spesa, bisogna vigilare di più su quelle che sono ovviamente le speculazioni e le tassazioni. Quindi quando parliamo di tassazione, quando parliamo di lavoro, quando parliamo di sostentamento della famiglia bisogna fare su serio, non bastano le politiche dei bonus, bisogna intervenire. Ci sono i soldi, gli extraprofitti, sono 40 miliardi solo per le imprese energetiche, sono altri 70 miliardi tra quelle che sono le imprese delle armi e le imprese farmaceutiche. Possiamo ridistribuirle o no? Molto si può fare con i comuni che proprio in questi giorni stanno realizzando i propri piani sociali dove si può trovare spazio per trovare risorse da destinare a sopperire a quelle che sono crisi finanziarie e economiche che stanno veramente colpendo fortemente famiglie, ma io direi anche il mondo del lavoro. Noi vogliamo che ci sia attenzione partendo appunto dal basso. Questo si può fare con le istituzioni come i comuni, come la provincia che già ha dato la sua disponibilità ad ascoltarci. Il valore medio di una pensione oggi in Italia sono 700 euro e non si vive assolutamente con queste cifre. Quindi noi oggi chiediamo al prefetto come rappresentante del governo locale che si faccia portavoce di questo disagio territoriale e che in un certo senso dia il segnale al governo centrale che anche su questo territorio i pesi della crisi sono tremendi e riguardano soprattutto questa categoria. Una delegazione ha poi consegnato un documento al prefetto Forgione il quale ha assicurato l'impegno di attivarsi presso i ministeri concordando anche con i sindacati la necessità di istituire un tavolo permanente con amministratori e parti sociali per un confronto e un monitoraggio costanti. I sindacati infine hanno espresso al prefetto le difficoltà registrate in tema sanità delle aree interne lamentando carenze di medici di base e la chiusura di troppe farmacie.